devi eliminarli deve essere la priorità fa qualcosa si è durata pure troppo l'ho sentita Mary bastavano le prime dieci volte cazzo e allora perché mi tocca ancora ripeterlo? che succede? cosa? cospirazione e perché ha scurito la foto? ehi Ray mi cancelli sta merda? si ma non sarà facile stavolta lo stronzo ti ha fatto diventare un problema federale benvenuto nel club amico già è quello che ha sempre voluto no? farci passare per l'uomo nero che terrorizza la Silicon Valley Dushan offre la protezione del CTOS e la dorsale satellitare e bam tutti si mettono in fila si la Bloom ha accesso a tutti i dati raccolti e li dà impasto alla Bellwether merda ormai è più potente dell'NSA scommetto che l'NSA sarà molto interessata a un accordo con lei l'NSA incoraggia anche altre aziende ad aprire le porte alla Bloom devo fare qualcosa non posso restare qui eh no è proprio quello che vuole Dushan e poi finora hai fatto tutto il lavoro pesante daccene un po' ti si spacca la schiena va bene va bene voi agite sul campo io fornisco la logistica mettiamoci al lavoro ehi di nuovo quell'occhiataccia tutto a posto? Marco sei in guai grossi si lascia che lo aiuti non sono io il cattivo Sitara lo so ok? ma qui nessuno usa nessuno non è il pre-mate o la silicon van ragazzi è tutto a posto? a posto? si a posto che vuoi che faccia? aiuta Marcos d'accordo lui è Andrew Novak assistente di Dushan oh poveraccio passa la vita a rubare dati per il suo grande amore Mary Cudskill la CEO? che idiota voglio hackerare il laptop usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve ma per farlo dovrò prima sgranchirmi le gambe ehi Marcos metti qualcosa di nuovo devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del sito S Cazzo la Bloom sta facendo di tutto per proteggersi e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.